Sveglia! Mi senti? Sveglia! Come fa? Che cosa succede? Sbattaci e continua a cercare! Lasciatelo qui! Spazzo a te! Trovate Batman! Erano in sé, tutti! Chi se n'è andato? È decollato! Potrebbe essere ovunque parte. Torno subito. Ti faccio soltare insieme a lui! L'ho perso! L'ho visto decollare e poi è sparito! Vi ho assegnato un paio di compiti facili. Far parlare Tensh e trovare la dottoressa Yang con i suoi appunti. Qualcuno ha almeno provato a portarli a termine. Aspetta, ti guardo alle spalle. O trestetano, o rapto del corpo. Ehi, Batman, da questa parte! Grazie. Dov'è andata la dottoressa Young? Le ho detto di scappare, quei tipi l'hanno cercata. Le ho consigliato di andare nel suo studio a nascondersi. È lì che tiene i suoi appunti? Credo di sì. Era ansiosa di andare nello studio, è da quella parte. Quanto tempo fa è successo? Devo trovare i suoi appunti prima che Joker ci metta le mani sopra. Venti minuti, forse di più. Cos'hanno di importante quegli appunti? Joker li vuole. Questo li rende importanti. Resta qui, vado a cercarla. Non c'è problema, provo con la radio per vedere se c'è in giro qualcuno. Grazie dell'aiuto l'antietro. C'è nessuno! Abbiamo bisogno di aiuto, passo! Pronto, pronto! Se qualcuno è sintonizzato risponda! No c'è nessuno! Primo colloquio con il paziente. Il paziente mi è stato portato dopo l'incidente con il dottor Murphy. Ha avuto ogni tipo di esaurimento nervoso. Penso che tutto abbia avuto origini in seguito alla perdita della moglie del figlio. Finora il paziente non ha proferito parola. Dall'osservazione non si riscontra alcuna attività mentale. È come se ciò a cui ha assistito abbia fatto scattare un collasso mentale. C'è qualcuno qui dentro! È lui! L'abbiamo trovato! Butta giù la forda! Prendere nota. Come al solito è difficile continuare la ricerca in queste condizioni. Sta lontano dal dottor Cox! Subito! A terra! Li abbiamo trovati! Qualcuno tiene un medico! Oddio che cosa gli hai fatto! Pronto! Pronto! Se qualcuno è sintonizzato risponda! Sono Cashier! Siamo all'interno della residenza! Abbiamo incontrato dei detenuti amati! Anche tu cerchi gli appunti, eh, Batman? Buona fortuna! In questo momento... ...uno che sta lavorandosi una dottoressa. Si deciderà presto a sfruttare la formula! Per non parlare dell'esercito di magliacci che sta frugando il genzo... ...i non so come sarco quella formula sarà mia! Perché non ti arrenghi subito? Avanti, gettati a terra e fuori una volta tanto! Fatti questo favore! ... Grazie a tutti 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 Il problema è chi l'ha aperta Nessun segno di scasso Chi l'ha aperta conosceva la combinazione Vediamo Bene, la dottoressa Young è arrivata a prendere gli appunti prima di Joker Li ha presi e li ha nascosti Devo seguirla e scoprire dove li ha nascosti Oracle, sono sulle tracce della dottoressa Young ho dovuto impostare lo scanner per visualizzare le impronte più recenti Se le seguo riuscirò a trovare gli appunti Spero che funzioni Per tua informazione la polizia ha trovato una delle bombe di Joker in centro Era carica di marzapane e gattini Come sospettavo, un'altra delle sue tattiche diversive L'azione vera è in scena ad Arkham So che l'aveva raggiunto È qui! È qui! Prendetelo! Fatelo nero! Prendetelo! paysi qua avvalco per ignorare il Ah! Oh! Ah! 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 Ahit! Ah! Sesto colloquio con il paziente. Il dottor Craig è tornato sotto custodia per tre anni. Le sessioni sono state inconcludenti. Non sono sicuro che sia veramente pazzo. Buonasera Steven. Come va stasera? Sono io che conduco la sessione, Jonathan. Certo, se può farti stare tranquillo. Non vorrei che fosse il contrario. Parliamo dei fatti di tre settimane fa. Che cosa credi di aver ottenuto? Il dottor Murphy è ancora in terapia. Volevo cercare di capirlo. Le sue fobie personali, le sue paure. È tutto così affascinante. Ma tu sei... eri un medico rispettato. Una mente brillante. E adesso sei solo un recluso di arca. Posso avere un drink? Uno forte. Queste domande mi annoviano. Temo di nobbi interessante scelta di parole, dottore. Vuoi dirmi che cosa temi? Non ci sono un'accusa di un'accusa. che cosa facciate? no no no, servo tardissimo è qui, deve essere stato lui è stato Zaz, quello è un pazzo impossibile, respirano ancora Zaz non lascia mai vivo nessuno non ci sono Grazie a tutti.